Ciao a tutti, sono Anesi e oggi sono qui per fare una nuova apertura a Blindbacks questa volta abbiamo gli Angry Birds che li ho già persi sul canale ma sono molto carini sono dei portachiavi appunto con gli Angry Birds e sono fatti molto molto bene costano 3,50 ma secondo me il prezzo li vale perché sono davvero belli abbiamo tutti questi personaggi qua se volete vedere chi ho trovato le scorse volte andate sul canale, ci sono tutti quanti i video e mi piacciono tutti quanti, vorrei trovare questa qua e un porcellino magari, sarebbe carino però sono tutti carini ovviamente in edicola insieme a questi arriva anche un libricino, sono della Game Shop Edizioni Collection insomma e niente e c'è tutto il libricino, ve l'ho già fatto vedere in altri video con i giochini pubblicità e pubblicità vediamo un po' chi c'è allora, spero di non trovare doppi in caso li scambio, vediamo allora vediamo prima ok, già vedo un verde uff il allora, questi sono uh che carino questo che carini allora, questi sono gli sticker che si possono trovare cioè alcuni degli sticker non c'è una checklist degli sticker, ecco, quella mi sarebbe piaciuta allora, lui è Hal hal, diciamo hal questo qua, col becco enorme carino, devo dire, molto carino non ce l'avevo ovviamente mi piace vediamo un altro speriamo di non trovare doppi ma tanto mi porto sfortuna e trovo un doppio, vero? no no, ok oh che carino il porcellino mi piace che carino è quello il re porcello guardate che porcello è carino qua, vabbè, si può togliere carino, carino due verdi bene carinissimo vediamo gli sticker del re porcello oh che carini anche questi devo ancora usarli per fare queste creazioni ma ho usato ancora altri sticker e ne ho stampati altri guardate quanti ne ho stampati che carini questi guardate che carini guardate che tenero Applejack guardate che bella lei Ariel questo è stupendo guardate che belli Silvia li devo assolutamente ritagliare e poi li userò nelle prossime creazioni bene spero che il video vi sia piaciuto ditemi qual è il vostro preferito il mio è sicuramente il porcello che ha anche una X qua l'hanno colpito poverino e niente spero che vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un like commentare iscrivervi al mio canale se vi va vi mando un bacione un salutone e noi ci vediamo al prossimo video vi ricordo di partecipare al giveaway perché è sempre aperto ciao a tutti